Gaffri de Charny nel 1283 divenne precettore di Fresnay, nel 1294 di Ville-Mosson e nel 1307 della Normandia. Charny fu condannato per l'eresia il 18 marzo 1314 e venne bruciato sul rogo insieme a Jacques de Molay, gran maestro dell'ordine. Il possessore della presunta Sindone di Torino, tal Gaffri de Charny, era un cavaliere medievale figlio di Giovanni di Charny e Margherita di Genville. Quello che si nota è la chiara omonimia tra l'eretico condannato al rogo e il cavaliere possessore della Sindone. A noi ci intriga pensare che più giovani dei due, quello che possedeva il sacro lenzuolo, nacque nove anni prima della morte dell'altro de Charny. Non è che la Sindone fosse in mani templari e che invece che il re nell'Aube fosse all'eretico re in Normandia, laddove primo dei goffri dei Charny era precettore?